Libera uscita è uno dei progetti finanziati da Rimini Autismo, l'Onlus nata nel 2004 con l'intento di accogliere famiglie di persone con autismo e tutelarne i diritti. A fianco della struttura sanitaria che si occupa della parte clinica, l'associazione gestisce l'accoglienza e la relazione tra famiglie e promuove progetti finalizzati a diffondere cultura sull'autismo. Motore del progetto Libera uscita è il desiderio di autonomia e di indipendenza dai genitori che nei ragazzi è più vivo che mai. Il fine è quello di favorire la capacità di relazione, il contatto con gli altri, la conoscenza e l'amicizia fra coetanei dalle esigenze affini. A seconda delle caratteristiche, dell'autonomia e delle competenze e seguendo un criterio di uniformità di comportamento e di risposta alla socialità, i ragazzi sono suddivisi in tre gruppi. Il primo è formato da ragazzi con alto funzionamento. L'idea innovativa consiste nel lasciare che i ragazzi vivono i loro momenti di gruppo senza la supervisione degli operatori, appunto liberi. Vengono messe in campo strategie per risolvere eventuali problematiche. Il secondo è sempre affiancato da educatori, presenti nel momento organizzativo e durante le uscite, nelle quali i ragazzi sono sollecitati a rendersi parte attiva del gruppo. Il terzo, costituito all'inizio del 2015, è caratterizzato da autonomia e competenze più limitate. Primissimo scopo è quello di suscitare l'emozione dello stare insieme. Dal 2011 si è ritenuto indispensabile integrare il progetto Libera Uscita con gruppi sociali, condotti da psicologa ed educatrice USL. La finalità è aumentare la motivazione e la socializzazione, condividere successi e difficoltà incontrate nelle uscite, fare emergere bisogni e nuovi obiettivi e lavorare sui feedback del progetto. Nel tempo è maturato il senso di appartenenza al gruppo e un maggior desiderio di partecipazione, tanto da proporre ad amici esterni di partecipare alle uscite. Con il vostro aiuto, sempre più ragazzi con autismo potranno avere autonomia e libertà. Grazie a tutti! Grazie a tutti!